E' una sagra fricca qui, le danzatrici, i giovoli e i miei... Fai di nuovo il movimento? No, quella di pancia, ti prego, ti prego. Grazie. Quella libertà, quella bella libertà degli anni del santo. Alla grande! E c'era la rigidità, poi, noi che siamo molto più così, di prestazione differente. Molto rigidità. E' una cosa molto bella. Molto.